Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale da Michele eccoci qua finalmente arrivata l'uscita numero 72 di Iron Man ragazzi guardate ci sono dei pezzi dentro che ma poi andremo a vederli veramente grandi e pesanti tutto in metallo forché quello che vedete in rosso che è di plastica allora andiamo subito a dare una lettura della rivista del fascicolo all'interno sapete che io permetto a tutti coloro i quali vogliono e desiderano vederne i contenuti oltre che grafici anche leggerli potete farlo ragazzi adesso cerco di ingrandire un po' ma sembra che già si veda così vediamo un po' così voi siete liberi di leggere questa pagina dei servizi ragazzi che pezzo che c'è in questa uscita che pezzo che c'è in questa uscita guardate che immagini che belle queste locandine bellissime bellissime ogni fascicolo sembra più bello per quanto possibile più bello dell'altro perché sono tutti belli qui procediamo dopo alla lettura perché è la fase del montaggio quindi andiamo avanti anche qui ok qui siamo a pagina 8 avete visto ho arrivato fuori un altro metodo ho ingrandito e cerco di far scorrere in avanti il foglio così magari vedete meglio e faccio anche prima ma quanto abbiamo fatto bene ad acquistare questa collezione con tutto quello che si sente dire a me non interessa è bellissima bellissima sarà un capolavoro un capolavoro alta ben fatta e pesante e siamo arrivati alla fine di questa vista del fascicolo prossima uscita numero 73 e sto facendo tante di quelle collezioni ragazzi che confondo i numeri scusatemi 73 la prossima uscita costruisci la seconda parte del torace e la terza parte della base perfetto ragazzi a noi adesso andiamo a vedere il contenuto e ditemi voi se non avevo ragione ok riduco un po l'immagine altrimenti non riesco ad inquadrare tutto perfetto guardate cosa c'è cosa è contenuto in questo numero 72 guardate ragazzi tutto metallo tutto metallo tutto metallo verniciato qua d'argento verniciato benissimo nero opaco molto bello poi abbiamo mi aiuto ecco qui con il cacciavite ad estrarre i pezzi qua abbiamo i supporti del nostro iron man tutto metallo pieno 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 ragazzi questo è metallo pieno poi andremo a pesarlo sapete che mi piace darvi tutte le indicazioni possibili ok questa è la prolunga di questa poi abbiamo questo pezzo di plastica rosso che è la prolunga che ci consentirà poi di accendere il reattore arc dalla schiena attraverso l'addome abbiamo il contenitore del reattore arc che fisseremo in questo numero qui qui abbiamo il guida asta di questo che poi monteremo due serie di viti una e m ricordatevi e identifica la vite che dobbiamo mettere m metallo metal metallo quindi queste vanno messe sul metallo e sono contrassegnate con il colore nero ricordate che quelle per la plastica c'è scritto p al posto della m sono contrassegnate col colore azzurro sono ragazzi che lo dico e voi ormai lo sapete a memoria però chi mi vede per la prima volta non lo sa qui infatti come potete vedere ip plastica azzurro metallo metallo nero la scrittura ok e abbiamo poi anche degli spinotti che ci serviranno poi per mettere in sicurezza una volta assemblata la nostra asta che manterrà il nostro iron man poi abbiamo due adesivi uno di scorta questi sono per consentirci poi di spessorare la parte finale dell'asta che va inserita nella base per costruire ragazzi questa base che vi hanno dato non è per esporre iron man poi ripeto voi direte ma michele io non ho la base è sempre meglio che non avere nulla sono d'accordo però questa è stata creata dalla d'agostini non per sopperire alla mancanza della base premium per chi non l'ha acquistata con l'abbonamento ma per consentire a noi di non appoggiare il nostro iron man continuamente per terra sulla base d'appoggio e rovinare le vernici quando andiamo a girarlo adesso inquadro tutto bene ragazzi e io solo ho spiegato cos'era contenuto e inquadro tutto bene vediamo i blister perfetto passiamo un po così ok allora questi sono tutti i contenuti del nostro numero 72 andiamo perché io sono curioso andiamo a pesare così vi do proprio il senso esatto di quello che è il peso di questo pezzo è a zero perfetto andiamo guardate ragazzi quanto pesa questo pezzo 283 grammi quasi tre etti e poi c'è anche il pezzo da mettere dietro che uscirà sicuramente come ci dicono qui nel fascicolo 72 costruisci la seconda parte del torace e la terza parte della base la terza parte della base saranno sicuramente le forche che andranno messe qua in testa per prendere a c il nostro iron man e stringerlo andiamo a vedere anche la misura per i nostri amici americani e inglesi in libre eccola qua la misura in libre perfetto torniamo in chili 282 guardate cosa pesano le aste ve l'ho detto che sono ferropieno 134 grammi 250 grammi due etti e mezzo ragazzi che per i nostri amici americani e inglesi in libre equivalgono a questi avete visto quanto pesa questi due pezzi tre pezzi pesano 532 grammi e in libre questo rendiamoci conto siamo a 532 grammi questo è vero non fa parte del robot dell'armatura scusate questa fa parte dell'armatura però ve l'ho detto che è ferropieno allora togliamo via questo perfetto e procediamo al montaggio allora all'interno di questa uscita comincerai ad assemblare il torso del tuo modello partendo dal torace continuerai anche a lavorare sui componenti della base di supporto come anticipato abbiamo il telaio del torace 72a il 72b che il contenitore del reattore arc il 72g che sono i perni di chiusura delle aste che manterranno poi nella base per poter assemblare il nostro aeromo in sicurezza manterranno appunto le aste fisse abbiamo il 72c che è un'asta del reattore quella che ci consentirà di accenderlo che in plastica anche questa come questa qua tutto quello che vedevi in rosso in plastica tutto ciò che vedete in nero e metallo abbiamo la 72d che la staffa dell'asta del reattore 72e aste della base numero 1 e 72f aste della base 2 abbiamo le due serie di viti em e ip e i perni che ho appena detto prima e i due adesivi uno in più sempre che sono i 72h che sono gli adesivi di spessore allora prima cosa che ci dice a fare a noi prendiamo il porta reattore eccolo qui e andiamo a collocarlo qua perfetto prendiamo due viti em una e due ricordatevi sempre come aprire il sacchetto dito pollice indice senza strapparlo e rovinarlo così tac e lui si apre subito poi lo richiudete sapete che io mi passo sempre i filetti prima quindi mi sono portato avanti e l'ho già fatto prima del video non serve mettere grasso qui io se serve mettere grasso perché la vite è dura ad entrare ve lo dico quindi mi sono passato le mie le mie viti em una di qua e una di qua nei due fuori uno e due le vado chiaramente a svitare e poi le vado a mettere come ci dice in figura così perfetto i due fori come potete vedere questi della plastica combaciano con i fori sotto sia di qua che di qua creare il filetto prima serve a evitare di rompere questa plastica qui quando arrivate in fondo perché con il filetto creato sentite che fa resistenza appena fa resistenza siete arrivati non avvitate tutto subito lo guardiamo poi davanti come è messo se da centrare un po' così siamo sicuri ok adesso possiamo stringerlo con le nostre due viti em perfetto fatto questo ci dice prendi le due asta l'asta e il guida asta questo qui e andiamo a inserirlo come in figura qui in questa maniera allora ovviamente la parte più alta questo collarino che vedete qui aspettate cerco di ingrandire un po' me ne accorgo me ne accorgo che non è a fuoco ragazzi me ne accorgo ecco questo collarino qui deve stare chiaramente verso l'alto verso di voi quindi andiamo a mettere questo ve ne accorgo ve ne accorgete anche perché ci sono qua c'è qui il cerchio che è lo spazio di uno e due anche queste viti ragazzi me le sono già filettate prima queste viti qua ci vanno due viti ip queste le tiriamo fuori subito uno e due non so se sentite il sottofondo che è il mio gattino Michelangelo è un gatto mediterraneo che dovrebbe compiere un anno adesso a ottobre ed è un rosa cipria il mio amico Michelangelo allora chiedo scusa andiamo avanti questo lo inseriamo così con il collarino alto verso qua e andiamo a metterlo in questa maniera prendiamo le due viti ip e avvitiamo ne puntiamo una senza avvitarla tutta e ovviamente facciamo la stessa cosa con l'altra e poi stringiamo piano piano non serve esagerare ragazzi non serve esagerare deve stare fermo non deve ballare non stringete forte perché rompete il pezzo qui a questo punto vedete questo è libero poi di scorrere e aspettate un momento perché qui c'è qualcosa che non va eh perché non può essere messo così Michele ha fatto un errore ragazzi meno male voi guardatemi prima e poi io mi riprendo dopo se sbaglio non rifaccio il video perché è tutto in diretta e mi va bene così però questo pezzo deve essere messo così perché non avrebbe senso lasciarlo così perché è questo che accende il reattore archi però ragazzi scusate se ve lo dico eh cioè o sono io che non capisco o hai spiegato male il disegno adesso ve lo faccio vedere anche a voi poi fatemelo sapere qui ci dice vedete perché io ho sbagliato ho guardato la figura se non avessi guardato il disegno come ho capito adesso avrei capito anche subito prima comunque il disegno ci fa vedere che questo va inserito qua ma è sbagliato no e no questo va girato quindi andiamo a smontare di nuovo le due viti IP secondo me sono sbagliate le istruzioni comunque poco mai ragazzi Michele risolve tutto ecco qui questo va messo di qua da questa parte vedete questo pezzo qui dovete trovarvelo e qui ci devono essere le scanalature sotto e qui il collarino che vi dicevo prima dovete metterlo così ecco così deve stare poi questo premerà il reattore archi aspettate eh lo monto ragazzi vi faccio vedere il funzionamento eh sì o sono spiegate o è sbagliato il disegno o comunque sono spiegate male però insomma si intuisce subito poi alla fine che uno ha sbagliato eh ecco qua poco male ragazzi perfetto vedete questo poi andrà a premere il reattore andiamo subito a vedere una cosa prendiamo il nostro reattore eccolo qua vedete e andiamo a metterlo direttamente qui vediamo vedete che bello eh eh ma ma che cos'è? ma che cos'è questo? cos'è questo torace? eh eh che meraviglia che meraviglia ragazzi io ne sto facendo tre ma che bello ho fatto proprio bene a prenderne tre lo sapevo che era un modello meraviglioso lo sapevo fatto questo giriamo la pagina e con questo abbiamo terminato adesso passiamo all'altra fase cioè quella della base che ci servirà poi per aiutarci al montaggio eh la base di supporto del nostro modello questo che vediamo qua in foto e questo qui chiedo scusa questo qui ecco ok allora vediamo un attimo questo e andiamo a prendere le due aste 72E e 72F e le uniamo non vi potete sbagliare perché avete cercherò di mettere a fuoco per farvelo vedere bene ecco qua vero? allora guardate qui abbiamo una specie di unghia vedete e qui abbiamo una feritoia qua non vi potete sbagliare guardate perché anche se lo metto senza guardare vediamo c'è la messa a fuoco sempre che fa pena ragazzi scusatemi anche se lo metto senza guardare allora vediamo questo perché forse mi metta a fuoco l'immagine dietro e mi sfuoca quella davanti proviamo vabbè ragazzi guardate anche senza guardare io inserisco e lo faccio ruotare e lui ha già trovato la sua sede vedete a questo punto prendiamo le due spine delle tre che ci hanno dato perché è una in più che sono quelle che terranno unite fisse in sicurezza le aste perfetto e andiamo a inserirle guardate bene che siano allineati fuori prima altrimenti cercate di giocare un po' finché lo vedete perché diversamente non vi entrano nelle spine perfetto allora andiamo a inserirne una chiedo scusa ero fuori dall'immagine e andiamo a inserirle due adesso metto la pausa già perché basta semplicemente fare una pressione con un martello con del legno sopra per non rovinare la vernice e il pezzo è fisso ok a dopo ragazzi eccomi qua di ritorno ragazzi da inserire è semplicissimo guardate ho aspettato a inserire anche il secondo così vi faccio vedere a voi quanto è semplice lo mettete all'interno vedete questo l'ho già inserito prendete quello che volete io ho preso questo che è di plastica così non roviniamo la vernice guardate guardate perfetto avete visto e poi appoggiate quello che volete voi sopra per farlo andare a filo senza battere lo premete uno e due ecco qua e questo l'abbiamo fatto poi ci dice di prendere l'adesivo di spessore per evitare che questa asta qui possa ballare all'interno del foro della base di supporto per il montaggio del nostro Ironman vedete così balla andiamo a questo punto a mettere uno dei due adesivi che ci forniscono che ci darà lo spessore giusto per far sì che poi non balli io sono destro quindi devo lavorare con questo per forza ragazzi allora la misura è così sì è uguale allora seguite questo lato qua questo con il rialzo così non vi sbagliate andiamo a vedere se basta uno ma secondo me sì qualora non bastasse uno metteremo un secondo levate tutte le bolle d'aria che avete sull'adesivo così questo negli anni non si staccherà e andiamo a vedere allora sinceramente io ne metterei anche un altro e lo vado a mettere lo vado a mettere se si stacca lo metto volentieri si vuole divertire ok andiamo a vedere dove il punto di giuntura è questo qua e lo andiamo a coprire con l'altro nuovo per andare a diritti non attaccatelo anche da questo lato ma solo da questo e seguite guardate come vi ho detto il ferro di prima fa più fatica perché sotto la plastica attacca più che il ferro ecco qua fate un lavoro fatto bene non fate grinze guardate guardate io direi che è perfetto proviamo e beh ragazzi ci vanno tutte e due io consiglio che vi do ci vanno tutte e due a questo punto abbiamo finito abbiamo fatto anche questa parte qui abbiamo finito questo è stato montato ecco vedete qua spiega bene come va montato invece ripeto attenzione che questa foto qui non spiega un granché bene come va montato ci fa fare l'errore questa allora ragazzi questo numero è finito io leverei questa base di supporto per il solo montaggio per farvi vedere una cosa adesso la preparo metto in pausa e ve la faccio vedere perché voglio farvi vedere due curiosità una dove siamo arrivati è il peso dell'armatura che abbiamo ottenuto fino al numero 72 va bene un attimo ragazzi a dopo eccoci qua ragazzi non vi spaventate perché faccio modellismo da tanti anni e non avete neanche idea di come li ho appoggiati piano i pezzi questi quasi non si toccano questo è di plastica questo è metallo appoggiato appena appena piano sulle plastiche e questo è metallo appoggiato piano sul ferro e sulla plastica qua quindi ci tengo tantissimo che la darnice non si tolga detto questo guardate il peso fino adesso e tenete presente che mancano tutte le parti della plastica qua dietro delle cosce l'interno coscia mancano i ferri qua che coprono i reattori qua delle gambe e poi mancherà tutto il resto fino a qui siamo a 2665 grammi che per i nostri amici americani e inglesi in libre equivale a questo sapete perché do anche queste indicazioni per loro perché spesso e volentieri quando guardo i video loro mettono soltanto il peso americano e inglese e io devo andarmi a fare i calcoli se sono curioso per sapere in realtà cosa pesa davvero l'oggetto va bene ragazzi adesso togliamo questo mettiamo in pausa un attimo faccio un po' d'ordine eccoci qua di ritorno ragazzi avevo piacere di farvi vedere la base premium con tutti i componenti fino adesso costruiti senza ovviamente aver messo anche le plastiche che vanno poi a chiudere qui vedete questo tappo è la modifica che feci otto mesi fa e poi adesso tutti lo fanno in 3d e io sono veramente contento perché è così che si fa uno crea un progetto e gli altri se hanno la possibilità lo migliorano e quindi volevo ringraziare tutti i ragazzi che sono andati avanti con quel sistema 3d allora guardate che meraviglia vedete ricordatevi che io questi non li ho inseriti il coprimuscolo per quello che ho già spiegato e non vi spiegherò nuovamente andate a vedere i miei video ragazzi non vi ho ancora detto stranamente di iscrivervi ma ve lo dico adesso se avete piacere di far crescere il mio canale perché ritenete che siano interessanti e utili i miei video lasciando perdere la qualità ragazzi perché ne sono consapevole ma migliorerò di sicuro perché lo desidero e poi sono fatto così vedete muovo il filmato perché non ho uno stabilizzatore ho il braccio e basta mio e quindi vi stavo dicendo che se ritenete che siano utili i miei video interessanti per migliorare la funzionalità e la stirabilità dell'armatura di questa splendida armatura eh ragazzi iscrivetevi ho bisogno delle iscrizioni vi dico un'ultima cosa vi siete iscritti non vi dimenticate se avete piacere non dimenticatevi ragazzi per voi è gratis per me è veramente importante allora vi ricordate l'asta che abbiamo appena montato allora sappiate che quest'asta qui al 99 per cento andrà poi utilizzata una volta montato Iron Man nella base premium finale adesso vi faccio vedere aspettate che poso un attimo e vi faccio vedere